La bilancia è così chiamata perché pende in equilibrio con un'asticella al centro di due piatti. I due piatti sono il disprezzo del mondo e il desiderio del regno dei cieli. L'asticella al centro è l'amore di Dio e del prossimo. Questa è la vera bilancia che pesa esattamente, dando a ognuno quanto gli spetta di diritto, al mondo il disprezzo, a Dio l'adorazione, al prossimo l'amore.